E' la fine di un incubo che in questi anni mi ha abbattuto tanto, umiliato, offeso. E' stato questo il commento commosso di Mimmo Lucano, che ha atteso il verdetto nella sua riace dopo aver appreso dai suoi regali l'esito del processo. Un incubo iniziato il 2 ottobre del 2018, quando fu sottoposto agli arresti domiciliari dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Locri. Per anni, ingiustamente, mi ha reso agli occhi della gente come un delinquente, il tutto per distruggere il modello riace. Sette ore per decidere le sorti di Lucano, tanto hanno impiegato i giudici della Corte d'Appello di Reggio Calabria per fare crollare le accuse contestate all'ex sindaco. Lucano, accusato di irregolarità nella gestione dell'accoglienza nella cittadina della Locride, che ha guidato per quasi tre legislature, facendola diventare celebre nel mondo come esempio di accoglienza e di integrazione, era stato condannato dal Tribunale di Locri nel settembre 2021 a 13 anni e due mesi di carcere per associazione per delinquere, truffa, peculato, falso e abuso d'ufficio. Accuse, tutte cadute in appello ad eccezione di un falso per una delibera del 2017 per il quale è stato condannato a un anno e sei mesi con pena sospesa contro la richiesta della Procura Generale di una pena a 10 anni e 5 mesi, assolti anche tutti gli altri 17 imputati del processo. Un lungo applauso ha accolto la lettura del dispositivo da parte della Presidente della Corte, Elisabetta Palumbo, in un'aula gremita di persone che all'uscita hanno intonato. Bella ciao!